insomma a Susanna Schlein, sorella della più nota Eric Schlein, hanno abbruciato la macchina e naturalmente le indagini si sono immediatamente indirizzate verso la pista anarchica come se a me, non lo so, qualcuno mi rompe lo specchietto e io indago nella direzione degli anarchici oppure che so, al confinante con cui ci ho avuto a che dire nelle settimane scorse gli abbruciano la macchina e si segue la pista anarchica ma no, me che Rebigneri siccome sanno che abbiamo avuto da discutere problemi di confine del Ciociaristan meridionale vengono da me e mi chiedono ma lei Fiorenzo ce l'ha un alibi? e allora a quel punto io se ce l'ha un alibi lo dico oppure rimango sospettato giusto? perché quando succede una cosa del genere si va a indagare sulle relazioni di quella persona, non è che si accusano gli anarchici così, che tra un po' accuseranno noi Novax, stiamo appena a un gradino sotto capito? qualsiasi cosa succede o sono gli anarchici o sono gli Novax e allora domandiamoci, la famiglia Schlein, questa illustre famiglia con queste due sorelle che sono ai vertici della luna della politica nazionale l'altra è prima consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene al ministero degli esteri vabbè, lasciamo perdere, dopo Di Maio abbiamo visto tutto dicevo, uno indaga ovviamente in quella direzione, non gli anarchici e allora con chi ce l'ha la famiglia Schlein? con chi potrebbe avercela meglio con la famiglia Schlein? io comincerei, tanto per cominciare, con il convocare Bonaccini scusatemi, è l'avversario principale di Eli Schlein alla guida del Partito Democratico io una ghiacchierata con Bonaccini me ce la farei, voi no? in secondo ordine andrei ad indagare sulle relazioni personali, private della Susanna Schlein se ha lasciato qualcuno o qualcuna queste sono le direzioni da prendere quando si vuole indagare invece, subito, hanno stati gli anarchici allora, hanno stati gli anarchici può significare due cose la prima, che non sanno che pesci prendere la seconda, che non si vuole indagare per non mettere in difficoltà la persona che ha subito un danno perché magari, poi scoprendo i veri responsabili potrebbero uscire delle cose poco simpatiche e allora, hanno stati gli anarchici tra un po' hanno stati i novax questo è lo stato della democrazia in Italia dal punto di vista della differenza di trattamento anche sulle questioni minute che subiscono i cittadini io sono uno qualsiasi quindi se subisco un danno ovviamente la prima cosa che a me chiedono è ma qualcuno ce l'ha con te? e se qualcuno che ha una carella con me subisce un danno vengono a cercare me ma quando si tratta della famiglia Schlein ovviamente hanno stati gli anarchici bella roba così è finita la Repubblica Italiana fondata sulla Costituzione una Costituzione che ormai pochissimi conoscono ancor meno ne intendono il vero significato mentre la stragrande maggioranza della popolazione o è del tutto indifferente oppure si è accomodata alla greppia comune signori un amaro saluto da me e dal maresciallo Piducoff alla prossima a presto grazie 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 grazie